La cosa che ho ritenuto insopportabile però anche nell'attesa del giorno del ricordo sono state le prese di posizioni di alcune associazioni, tra cui Lampi, dove si è purtroppo continuata a propagandare teorie negazioniste o perlomeno teorie che vogliono sminuire la portata e la gravità e il dramma che hanno vissuto le nostre gente e il nostro territorio. Questo lo reputo inammissibile e come Presidente di Regione utilizzerò tutti i mezzi a disposizione perché ciò non si è permesso, perché penso come se domani venisse qualcuno a dirmi che il nazismo in realtà e i campi di concentramento sono una favola, cosa che ovviamente direi che è un pazzo nella migliore dell'ipotesi o reagire in modo ancora più duro, così non posso accettare che qualcuno possa dire delle foib, perché mi sembra veramente che qualcuno voglia fare dei morti di serie A e dei morti di serie B. Le Ampi regionali prendono finanziamenti anche dalla Regione Fulenza Giulia? Hai capito cosa le voglio chiedere, Salvini e non solo lui ha detto che vorrebbe ridurre i fondi… Ho fatto il post, ho stato il primo a fare il post dicendo che bisogna andare ai fondi alle associazioni che propagano negazionismo, che aiutano a propagandare il negazionismo o sminuire i fondi. Ci sono fondi regionali anche in questo senso? Guardi, ho fatto fare una verifica su tutto quello, su altre associazioni che ho provato in tal senso, perché uno la pensi come vuole legittimamente, noi finanziamo associazioni di destra e sinistra, di alto e di basso, però penso che ci sia un limite, non finanzierei mai un'associazione neonazista, ovviamente, esattamente come però se mi permettete non finanzio un'associazione che con la parvenza della democrazia vuole negare dei fatti drammatici avvenuti da noi. Quindi azzera quei fondi per le ampi? Per quanto mi riguarda non credo che la strategia della Regione, la politica regionale e gli indirizzi di questa Regione siano compatibili con associazioni che propagandano di questo tipo.